La Fiat sta vendendo tutte le attività italiane, ha venduto Magneti Marelli, ha di fatto venduto la Fiat stessa e quello che ho detto e lo ripeto e me ne assumo la responsabilità che la sinistra e la CGL da quando la Repubblica è stata comprata dagli Elkan hanno smesso di fare una battaglia che prima facevano con Marchionne, quando la produzione aumentava, adesso che è crollata non li senti più dire nulla e questa cosa è ingiusta per i lavoratori, immorale per il Paese. Allora, segretario Landini, so che lei ha scelto un basso profilo su questo, però siccome proprio io l'ho conosciuta che sta davanti ai cancelli della Fiat a chiedere i diritti sindacali ai tempi del referendum Marchionne, cosa risponde a Calenda? Perché non ha ancora risposto a questa accusa? Perché io a un livello di questo genere non mi ci metto e io sono abituato di portare rispetto alle persone, qui vedo anche una mancanza di rispetto e Calenda di questa cosa ne dovrà rispondere. Dopodiché, per quello che mi riguarda, a me interessa quello che pensano i lavoratori della Marelli, quello che pensano i dipendenti della Fiat, che sanno perfettamente cosa la CGL e la FIOM in questi anni hanno fatto. E lui, che è stato anche ministro, dovrebbe assumersi le responsabilità di quello che in questi anni i governi vari non hanno capito rispetto a quello che sta succedendo. Dopodiché, io penso che c'è un livello di discussione che io a quel livello lì non mi ci abbasso. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.